La carica degli over 60, sono loro che hanno risposto alla raccomandazione del Ministro sulla quarta dose, non solo dunque gli ottantenni ma anche sessantenni e settantenni. Questa è la situazione stamani all'ex Lidl di Pescara, il centro vaccinale dove anche oggi si sono formate code. Ci sono anche prime dosi, seppure in minor numero, e giovani, ma la parte del leone la fanno loro. Buongiorno. Buongiorno a lei. Dose? Quarta. Le posso chiedere l'età? Settanta. Sessantasette. Sì, over 60. Sessantaquattro. Quarta dose. Siete convinte? Sì, se no non saremmo qui. Solo non ci aspettavamo questa fila. Dopo, io ricordo di averla fatta a novembre o dicembre, adesso francamente non ricordo, anche perché, non avendo più il cartaceo, sull'io, l'APIO e sul sito della regione non risulta il mio codice fiscale. Tu hai accompagnato tua mamma? Sì, questa mattina, ieri ho accompagnato mio padre. Ma perché adesso? Perché insomma avete paura di una recrudescenza? Beh, la recrudescenza credo che sia nei dati che forniscono il telegiornale. È stata anche una questione relativa proprio alle segnalazioni che fa la televisione. A questo punto abbiamo deciso comunque di fare questa quarta dose per ulteriore tutela, vediamo. Almeno così sono le indicazioni in generale. Signora, queste file se le aspettavo o no? No, pensavo che non ci stesse nessuno. Lei è qui per? È per fare la quarta dose. Ho 88 anni, quindi sarebbe il caso. Eh, complimenti, non gli dimostro assolutamente. Grazie. Questa coda le pesa? Sì, ma a me è piuttosto rapida, insomma. Tanto io non lavoro, quindi praticamente posso stare qua manca mezza giornata. Beh no, 72 anni. Comprimere. Eh, mi devo cautelare. Se l'aspettava questa fila? Eh, sinceramente non è molta, perché le altre volte ho aspettato un'ora, due ore. Quindi scorre abbastanza, forse perché è il primo giorno. Avete deciso di fare questa quarta dose perché avete un po' paura di questa recrudescenza del Covid? No, abbiamo fatto già tre, questa è la quarta, normale. Anche perché io in tanto tempo in piedi, sinceramente, non posso neanche stare, che ho dei problemi, però mi aiuterà lui. Soprattutto ora. Eh, in questi periodi così brutti, che non solo il Covid, ci mancava anche la guerra. L'asla di Pescara fa sapere di aver potenziato l'attività del centro vaccinale ex Lidl in via Colle Renazzo. Il centro sarà aperto tutti martedì, mercoledì e venerdì del mese dalle 9 alle 13. Gli over 12 possono accedere anche senza prenotazione, resta invece obbligatoria la prenotazione per l'età pediatrica 5-11 anni. E già si pensa a un altro centro se il numero di coloro che vogliono vaccinarsi contro il Covid dovesse aumentare.